ok benvenuti al talk e cercheremo di non annoiarvi troppo è una prosecuzione dei vari talk che abbiamo fatto negli anni praticamente siamo al code motion da quando era java day e l'anno due anni fa parlamo di apaci cordova anzi l'anno scorso a maggio parlamo di apaci cordova come soluzione diciamo intermedia per realizzare applicazioni mobile che siano sfruttabili su tutte le piattaforme diciamo l'anno scorso sempre al code motion però a milano abbiamo affrontato il discorso successivo cioè come connettere queste applicazioni che sono multi piattaforma a un mondo di back end quindi utilizzando la parte piai quello che vedremo oggi è come queste piai possono essere un valore aggiunto anche in un ambito enterprise soprattutto sfruttando la collaboration sfruttando quello che è e poi su questo interverrà davide su quello che è una semantica molto semplice di attore oggetto e verbo e vedrete come poi questa cosa funzionerà attraverso il mondo delle piai e attraverso il mondo delle app iniziamo subito e cerchiamo di fare un'introduzione abbastanza semplice cioè questo è ciò che accade in 60 secondi sul web in 60 secondi sul web accadono delle cose strabilianti e cioè davide riesce a scaricare la posta che gli mando io e in più riescono anche a fare molte altre cose il bello è che tutto questo accade sempre più sulla parte mobile quindi l'ambito mobile l'ambito comunque dell'internet delle cose piuttosto che l'internet delle persone sta prendendo sempre più piedi quindi anche diciamo il termine machine to machine diventa fondamentale perché perché nel momento in cui gli investimenti in infrastrutture di comunicazione si sono decisamente spostati verso quello che è l'ambito mobile questo che si è verificato quest'anno diventerà oramai un passaggio già preistorico cioè se voi immaginate qualcosa che possa essere sfruttare un canale che originariamente era un canale per computer oggi sempre più si affaccia al mondo degli smartphone dei tablet in minima parte dei wearable e se andiamo a vedere un pochino più in là tutto ciò che diventerà sarà un'espansione sempre più progressiva di quest'ambito oggi siamo qui domani saremo qui sull'internet delle cose una spiegazione veloce sull'internet delle cose veramente veloce se voi domani volete sapere questo se avete partecipato all'open in party di ieri è la stessa cosa che ho detto ho provato a dire in inglese quindi la dico in italiano ma esce meglio una spiegazione semplice è se voi volete sapere domani che tempo fa per regolare la caldaia di casa usate un'app vedete un servizio meteo e vi regolate l'internet delle persone se invece fate in modo che il vostro termostato sia in grado di richiedere lui le previsioni meteo e dato ad aggiustarsi probabilmente vi state spostando su qualcosa che diventa smart cioè che non è solo un'attuazione ma qualcosa che ragiona ed esegue se espandiamo questo concetto in maniera più ampia probabilmente vi muovete su un ambito di internet delle cose che non è necessariamente l'internet di sole cose ma anche un internet che è pieno di apparati che vengono o sono in grado di interagire fra loro o vengono utilizzati da noi stessi adesso affinché questo avvenga esiste la necessità di avere di avere dei fattori comuni i fattori comuni sono probabilmente intanto le modalità con cui comunichiamo gli standard che ci sono in questo ambito sono di diverso genere sono alcuni sono anche in via di definizione però di base se dovessimo fare una una cernita alla base c'è un concetto di cambio evolutivo cioè c'è la necessità di passare da quello che era un approccio tradizionale e cioè di web application oggi se io dovessi pensare a una mobile app per me sarebbe difficile pensare come pensavamo prima una web application intanto perché intanto perché c'è un concetto di transizione e cioè quello che voi prima pensavate come sviluppo di una web application in termini di tempo in termini di ciclo di vita e in termini neanche di rilascio è completamente cambiato no se voi pensate che una delle regole fondamentali è l'eterno beta cioè quando voi realizzate un'applicazione una web application voi gli date un inizio e gli date una fine nella maggior parte dei casi paradossalmente nelle app il vero valore la vera chiave di successo è l'eterno beta cioè questo iterare continuamente nell'aggiungere funzionalità toglierne di vecchie migliorare continuamente il ciclo cioè uno dei fattori interessanti sul vostro smartphone è trovare la possibilità di aggiornare quella particolare applicazione che usate spesso perché probabilmente hanno corretto i bug perché hanno introdotto nuove funzionalità quindi anche la transizione nel concetto di come realizzarla cambia moltissimo cambia molto anche soprattutto il valore che la vostra app ha sulla ridefinizione della presenza e cioè il modello di valutazione per le aziende questo è proprio un pain cioè proprio un problema esagerato perché immaginate una grande azienda che è già attestata sul mercato come leader su quell'ambito immaginate se quell'azienda a un certo punto decide di andare ad abbracciare questa realtà nuova che è questa evoluzione no cioè per farvi capire l'evoluzione immaginatevi immaginatevi vostra madre vostro padre vostra moglie che sta seduta sul divano e deve controllare la posta aziendale voi ce la vedete che si alzano a prendere il portatile prende il portatile contro la posta aziendale no molto probabile che prenderà il pad che ci avvicino e accede alla posta aziendale attraverso un sistema di device mobile ecco immaginate come sta cambiando proprio la nostra cultura cioè come anche a livello di azioni personali quindi non solo di strumenti ma proprio di azioni personali questo impatti e impatta anche in quelle aziende che avevano già conquistato una presenza sul mercato e che ad oggi si trovano a dover affrontare un nuovo modello valutativo che è quello dato tra gli sto dagli store di terze parti cioè la valutazione se un'applicazione è fatta bene o no non la decide più come nelle web application chi aveva fatto la web application ma la decide l'intelligenza collettiva cioè se io facessi alzare la mano a ciascuno di voi anzi facciamo questo esperimento chi di voi per prenotare un albergo ha mai usato un'applicazione che si chiama booking chi di voi ha mai usato un'applicazione che si chiama rust vai sì ma la sono appena inventata rust per essere sicuro che nessuno alzava la mano però considerate che booking non è un'applicazione che ha una sponsorship dietro esagerata è venuta fuori è pushata fuori semplicemente perché il modello valutativo valutativo l'ha premiata è stata premiata quindi se io vi dicessi che che ne so ferrovia dello stato rilascerà un'applicazione quell'applicazione verrà valutata bene o male non da chi l'ha prodotta ma dai fruitori dell'applicazione stessa e quindi il modello valutativo determina anche il nuovo mercato che quelle app avranno quindi le opportunità che si creano sono molteplici e soprattutto la grande differenza è che si può iniziare a prototipare per poi scalare e qui subentra il concetto e cioè se voi dovevate mettere in piedi un'applicazione che fosse anche amazon dovevate creare comunque un'infrastruttura alla base no c'è un minimo di cloud riserviva per chi invece sperimenta queste nuove realtà sa benissimo che gli investimenti iniziali sono molto bassi cioè che l'effort di penetrazione di un'idea che è basata su ambiti di internet of things o mobile puri ha dei costi di accesso molto bassi perché perché le tecnologie a contorno perché le modalità con cui si interagisce sono molto semplici tra cui quello di cui parliamo oggi e cioè l'apificazione l'apificazione vuol dire che oggi le compagnie le aziende gli enti per raggiungere i propri dipendenti e i propri clienti sfruttavano originariamente la presenza sul mercato cioè la geo localizzazione sul mercato dei propri punti vendita immaginate se dovevate vendere un particolare tipo di magliette probabilmente la scelta migliore era le poste italiane hanno più uffici loro che gli uffici dei carabinieri quindi era molto probabile che prima dell'arrivo di internet se voi dovevate distribuire il vostro prodotto la cosa migliore da fare era scegliere una partnership con chi aveva una radicazione una una presenza radicale sul territorio importante negli anni 90 si è scoperto che un sito web riusciva a fatturare più di due catene di libri sul mercato quindi amazon un semplice sito web riusciva a fatturare di più di due catene di libri di librerie che erano ben radicate sul mercato siccome mi registrano non lo dico il nome delle due però quelle grandi italiani si capisce successivamente ci si sta spostando verso il mondo delle custom up ma soprattutto per fortuna per noi verso il mondo un nuovo mondo un canale completamente nuovo che è quello degli app developer che sfruttano la connettività delle aziende e la mettono a fattore comune cioè apriamo un tema semplice l'open data se voi doveste realizzare un'applicazione per affittare le case che cosa fareste probabilmente chiedereste a tecnocasa che vi espone l'accesso ai loro dati così che quei dati riusciamo a portarli nella tasca delle persone che vogliono fruire di quell'applicazione e rendereste la vostra applicazione da un punto di vista di design la più fruibile possibile probabilmente non avreste lo stesso successo di booking perché perché manca quell'idea di utilità l'idea di utilità dove sarebbe l'idea di utilità sarebbe intanto analizzare che cosa serve se io devo affittare casa è vero che mi serve sapere quanti vanni c'è quanto costa e in che posto sta però ci sono molte altre informazioni che posso sfruttare che sono ad esempio se c'ho dei figli se i miei figli vanno a scuola che scuola fanno se io vado in piscina se c'ho una moglie che tipo di sport fa tutta una serie di informazioni che determinano la mia qualità di vita quindi immaginate se l'open data le api esposte dal comune di roma venissero utilizzate insieme alle api esposte da chi affitta case e io farei un'applicazione che non ti chiede quanti vanni vuoi ma che tipo di qualità di vita hai e quale tipo di qualità di vita aspetti secondo voi questa applicazione avrebbe la stessa opportunità o no di venire fuori come bugging rispetto a rasp cioè adeguarsi non è sempre la scelta migliore ma pensare oltre sì l'abilitazione a questo sono le api l'appificazione oggi passa attraverso questi aspetti gli aspetti principali maggiormente affrontati oggi sono la ot h 2 0 jason e rest quindi nel momento in cui io ho la necessità di realizzare un'app mobile utilizzando ad esempio cordova o utilizzando anche codice nativo la modalità con cui io prendo i dati e li sposto nella tasca della persona o prendo i servizi li rendo disponibili nella tasca della persona sono delle modalità che oramai sono abbastanza consolidate e cioè l'utilizzo delle api e quindi devo affrontare queste tematiche necessariamente devo affrontare questi tipi di tematiche queste tematiche oggi sono tematiche che probabilmente vengono indirizzate o da librerie che sono già presenti sul mercato o da dei framework che ci danno anche un supporto da un punto di vista di sicurezza di affidabilità di scalabilità però il vero concetto importante su cui noi dobbiamo andare non è l'implementazione tecnica di come io espongo utilizzo un api ma di che valore aggiunto mi dà cioè se vi ci porto perché poi quando passo la palla a lui diventerà complicatissima la cosa quindi se adesso vi sembra semplice poi quando passa a lui è una roba quindi se io comincio a pensare al mondo api come fattor comune per comunicare comunicare vuol dire non semplici non non stare davanti al pc e aspettarmi che mi arriva il push dal server per avere l'informazione ma semplicemente prendere l'informazione e spostarla nella tasca che è completamente differente la settimana scorsa facevo un corso a dei ragazzi di terza superiore e gli chiedevo se utilizzassero ancora messanger di microsoft e lui mi ha fatto sì ma sì io mi ricordo i tirannosauri e messanger adesso usiamo whatsapp mi hanno detto un altro paio di nomi che erano troppo avanti per me però l'idea qual era cioè qual era il loro concetto il loro concetto era non un problema tecnico cioè lo capite questo non era un problema tecnico non era che tecnicamente whatsapp era fatto meglio e messanger no cioè la stessa problematica che ci poniamo noi noi ci poniamo una problematica di tecnicità ma in realtà il fruitore non gliene può fregare meno della tecnicità cercate di alzarvi e di capire che il dato messanger ve lo portava sul pc whatsapp whatsapp occhio il dato lo mette in tasca ed è questo il valore di successo cioè ha già vinto non c'è ma io faccio l'interfaccia più colorata della sua no non c'è tra poco niente non è un problema tecnico l'api che ti permette di fare la ricerca della casa migliore non è un problema tecnico fra chi ti espone all'interfaccia migliore e chi pensa effettivamente a quale è la problematica e quindi ha un concetto di contribuzione collaborazione si dice che il web 1 era quando io fruivo passivamente delle informazioni il web 2 era quando io un po di informazioni gliele davo il web 3 è l'internet delle cose nell'internet delle cose ci passa il fatto che si collabora e si socializza sugli oggetti l'oggetto che cos'è l'oggetto può essere una comunicazione può essere una canzone può essere un post può essere una foto quindi esistono già gli attori esistono gli oggetti esistono le azioni quindi se vado a vedere la stessa oggetto che rendo disponibile attraverso i piai su un portale web 2.0 lo fruisco e lo collaboro ad esempio sui social network e lo rendo disponibile nella tasca attraverso mobile device questo era quello che tradizionalmente noi concepivamo quando ci andavamo a rovellare il cervello sul fare la migliore applicazione ajax il miglior framework ajax quanti framework ajax avranno presentato oggi una caderma solo persone hanno perché presentato questo però in realtà se voi ci pensate per farlo renderlo veramente la persona deve stare seduta davanti al monitor sì è vero che quello pusha l'informazione però tu devi stare seduta davanti al monitor è già verso in partenza perché le tecnologie oggi ti permettono di fare altro e la gente si aspetta altro ma non da un punto di vista tecnico quindi se io immaginassi un mondo in cui qui ci rendiamo conto che esiste un fattor comune per comunicare e realizzare quello che è la collaborazione adesso io vi dico avete una pagina state studiando su una pagina un contenuto quel contenuto è mero a se stesso voi siete nel mondo del web 1.0 potete mettere un commento siete nel mondo del web 2.0 se quella pagina mentre la state vedendo cominciate a fare delle azioni e queste azioni sono condivise con altri attori che possono essere persone o oggetti state cominciando a pensare a qualcosa di voluto lo so è un po complesso adesso però sto cercando di portarvi un po per volta perché poi quando tocca a lui arriva una mazzata quindi immaginate la fruizione di questi ambiti sui diversi sulle diverse realtà no su quelle che abbiamo visto prima e anche sulle realtà di sviluppatori di terze parti che vantaggi danno vantaggio principale build a un ecosistema un hackathon normalmente che cosa fa milano comune di milano ha fatto una cosa fighissima app for me app 4 mi cioè ha detto io c'ho delle piai c'ho 500 euro a chi fa la migliore app gli dosti 500 euro 20 applicazioni fatte un'applicazione premiata win win il comune ha speso 500 euro chi ha fatto la migliore app ha preso 500 euro i cittadini hanno 20 app per fare le stesse cose win win build un ecosistema raggiungo un pubblico più ampio sgancio completamente l'interfaccia dallo screen perché tanto non si parla più di multi device lo sapete no si parla di multi screen cioè nel momento in cui parliamo nell'ambito dell'internet o things ieri ho fatto vedere delle slide su smart car smart home connected tv ma remma pesta cioè potreste stare dietro a tutti quanti sistemi operativi che ci stanno no assolutamente no dovreste stare dietro a tutti gli screen che ci stanno la grandezza dello schermo se uno è touchscreen o meno perché poi del sistema operativo a sto punto me ne devo fregare perché se ci stanno così tante cose che si chiamano connected smart io impazzisco o no cioè è come se voi doveste fare un'applicazione per ogni computer che esiste voi che fate fate un'applicazione web e poi chiedete al browser adattate perché mica possono pensare tu che computer c'hai io c'ho un aser tu c'hai allora aspetta l'applicazione bellace e no no funziona funziona se voi trovate un meccanismo per sviluppare un'applicazione in maniera indipendente la identificate per quello screen e utilizzate un meccanismo di comunicazione API quindi sganciare l'interfaccia esternalizzare la ricerca e sviluppo immaginate le aziende quanti soldi faranno con questa roba e cioè esternalizzare la ricerca e sviluppo vuol dire semplicemente che io posso prendere un API renderla disponibile e chiedere all'intelligenza collettiva cioè facciamo un esempio pratico un esempio pratico è se io avessi dei dati e dei servizi da mettere in tasca alle persone per farci i soldi non la farei io l'applicazione non la farei assolutamente io radunerei un popolo come voi e direi metto in palio 2000 euro 5000 euro 10.000 euro quanto sarebbe il mio investimento a chi mi fa la migliore app io metto a disposizione i dati e i servizi la migliore app ha la chance di essere realizzata non necessariamente da me perché la migliore app è solamente l'interpretazione finale della user experience che l'utente porrà la cosa veramente valida è il servizio che gli diamo il dato che gli diamo cioè il vero valore aggiunto non è l'interfaccia di whatsapp ma è la modalità con cui gli utenti oggi sono stati abituati a comunicare prendo un esempio whatsapp potrei dirvi mille altre applicazioni che funzionano perché non perché è l'interfaccia che è stata costruita bene o solamente ma perché i dati i servizi che rendono disponibili sono di così tanto valore aggiunto che fanno la differenza noi ci stiamo concentrando su quello che è il framework migliore per il disegno del bottone ma in realtà non è così la collaborazione sugli oggetti la collaborazione sui contenuti fanno una grossa differenza tant'è che fungono da moltiplicatori di business proviamo a darci un'occhiata un po più da vicino e cioè proviamo a vedere come un epi in un ecosistema funzionante sfrutta questo che per grandezza è la sua importanza nell'ambito di community e di collaboration torno a ripetervi un concetto fondamentale immaginate un oggetto un oggetto ma un oggetto qualsiasi immaginatevi un banco immaginatevi questo talk un oggetto che abbia delle azioni e queste azioni sono veicolate da degli attori e gli attori sono nell'ambito di una community quindi la realizzazione della vostra mobile app come primo concetto dovrebbe sfruttare questa idea lo capite che è un passaggio non è un passaggio tecnico è un passaggio molto molto particolare ma è un passaggio che vi dà un'apertura mentale esagerata perché utilizzate una semplice semantica per farlo e se voi una delle cose che vi anticiperà davide è mettere a fattore comune i successi di quelle aziende che si sono trovate in piena new economy comunque queste sono le aziende che hanno fatto lo stesso ragionamento e questi sono i loro numeri con le api sono solo numeri economici o di utilizzo da api da sfruttamento di api sembrano poche ma in realtà non c'entravano tutte e abbiamo provato a metterne solo alcune e abbiamo portato anche un caso d'uso concreto da vedere che vi dà più o meno un'idea di cosa stiamo parlando proviamo a vedere la bbc che ha un canale dedicato ai developer esagerato a un framework una piattaforma di sviluppo esagerata dedicata solo ai developer cioè ha pensato la migliore applicazione della bbc la posso fare io che sono a bbc ma molto probabile che nasca dall'intelligenza collettiva migliore utilizzo quindi ha lanciato alcuni programmi uno dei programmi più fighi nell'ambito dei developer è l'ambito della radio quindi nell'ambito radio bbc e ha detto pubblicherò sto pubblicando delle api con accesso per gli app developer che realizzeranno delle app per mettere i dati servizi in tasca la persona in questo caso li mettono nelle orecchie della persona perché gli portano la radio nelle orecchie e hanno detto queste api le voglio rendere interoperabili con altre realtà degli app developer come voi molto in gamba che sono riusciti a capire il concetto di attore collaborazione oggetto hanno realizzato delle app una di queste è una delle app più scaricate più di quella della bbc molto di più e tra l'altro è anche a pagamento che fa una cosa semplice prende queste i piedi della bbc e le mette insieme alle pia e di spotify e quindi io ascolto un brano e quel brano me la metto nella wish list di spotify è il brano l'oggetto su cui si collabora l'attore sono io posso anche costruirci una community di persone con cui averci in wish list quel brano che posso riascoltare dopo con spotify adesso il caso d'uso è banale però è esattamente quello di cui ho portato fin qui cioè è un'app e non ci siamo concentrati su quale è la grafica con il quale mi fa vedere la discografia del cantante che sta accantando perché potrebbe anche essere figa però la cosa intelligente è stata riuscire a rendere fruibile questo servizio in termini di collaborazioni sfruttando da api differenti passo la parola a davia allora qualcuno ricorda i tre temi del dello sviluppo dell'epi quali sono i tre il primo la prima framework la prima qual era che avevamo incitato prima per la sicurezza per esatto quindi in basso sfruttando solamente questi tre standard queste tre caratteristiche noi riusciamo a creare un mondo social diriamo prima che cos'è il mondo social da un punto di vista aziendale perché questo perché in realtà l'abilitazione social ha avuto prima un grosso fermento intorno al 2009 a seguito del boom e del crollo della internet economy si è fatto un discorso ritroso e si è detto ok vediamo che cosa qual è il vantaggio competitivo che hanno avuto le aziende che sono sopravvissute il vantaggio competitivo era il social era il permanente in beta era la possibilità di avere accesso con delle open api quindi le comunità che si vengono a creare sono soprattutto online che utilizzano questi strumenti di auth2 rest e json per crearsi e per condividere azioni laddove poi invece le comunità offline le comunità tradizionali utilizzano altri metodi di aggregazione cioè utilizzano eventi fisici che si si verificano in luoghi fisici e in posti specifici ora quello che però si è visto è che rispetto alle aziende che hanno avuto successo in realtà questo discorso a posteriori di abilitare il social ha una fortissima valenza all'interno dell'azienda cioè all'interno dell'azienda ci sono sostanzialmente dei divide delle barriere dei gap che possono essere colmati abilitando delle funzionalità social secondo voi qual è diciamo l'elemento il problema principale dei social network che noi abbiamo adesso qual è l'elemento proprio che è un ostacolo che ci dà una cioè che il nome sul quale non possiamo diciamo oltrepassare per esempio dei social network tradizionali qualcuno ha questo è diciamo e poi c'è un problema che nessun nessuno strumento potrà sorpassare dal mio punto di vista è il è la monoliticità monoliticità cioè non sono peer to peer io non posso separare una parte e prendere i contenuti che mi riguardano il mio social graph e riprodurlo in un altro ambiente però in un ambito aziendale questo può essere molto utile perché io posso per esempio avere un repository di tutti gli artefatti aziendali ed esporlo verso gli utenti con delle modalità social cioè delle modalità di collaborazione che sono proprio dei social network e allora come faccio l'elemento fondamentale noi sostanzialmente lavoriamo su degli stream di contenuti lavoriamo su degli stream di contenuti quindi quelli che possono essere anche dei feed che voi estraete da un da un repository di contenuti però cerchiamo su questi feed, su questi stream di contenuti di crearci una rappresentazione semantica di quello che è l'interazione e questa rappresentazione avviene tramite proprio l'attore, il verbo, l'oggetto l'attore viene modellato con un GESON quindi con un oggetto GESON che sostanzialmente rappresenta le sue informazioni i suoi dettagli nell'ambito del contesto social su cui sta lavorando il verbo è l'azione che lui fa la cosa interessante è che in ambito social si collabora condividendo un oggetto cioè noi non lavorate portando a braccetto una comunità ma facendola crescere all'intorno di un oggetto condiviso quindi io condivido una foto quella foto diventa l'elemento sul quale poi si crea la comunità e il contesto sociale qui l'oggetto è quindi l'elemento che rappresenta per esempio l'immagine condivisa all'interno di un contesto sociale come vedete sono delle cose estremamente facili cioè è una rappresentazione schematica di una collaborazione per tripette il target è sostanzialmente costituisce il contesto cioè io condivido, aggiungo un oggetto all'interno della mia rappresentazione del mio container e questo è invece come viene veramente implementato all'interno del mondo dei social network cioè questo che vi ho descritto in precedenza è implementato da twitter in questo modo con questo attore e questo è l'attore per esempio cioè dell'aggiunta di una mia immagine in un post per twitter ora come si chiama questo framework che è diciamo quello che voi poi vedete rappresentato in twitter quando leggete l'elenco delle attività è appunto un activity stream nell'attivity stream sono codificate le modalità di interazioni diciamo più tradizionali che potete individuare e gli oggetti quindi oggetti e verbi all'interno della collaborazione social l'attivity stream è un framework che è nato intorno al 2008 ha avuto un boom nel 2009 e poi è rientrato in un ambito più ampio che quello dell'open social qualcuno ha mai sentito questo termine l'open social ha questa ambizione di smembrare gli aspetti social e di renderli separati in tanti standard diversi quindi non più un unico standard ad un'unica applicazione monolitica ma ha n applicazioni n contesti diversi e quindi fa uno sforzo maggiore per individuare quegli elementi comuni che possono valere per tutte le interazioni social quindi e come e cerca di estrarle e individuarle precedentemente naturalmente secondo voi qual è uno dei primi degli implementatori dell'open social dove potreste trovare degli activity stream open social stack overflow stack overflow è uno dei primi ancora sempre ancora più vicino al codice però github 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 il social coding esattamente questo cioè in github voi per esempio nell'ambito delle primitive che non ho citato qui perché pensavo che la disposta me la davate voi però una delle primitive è per esempio fork per cui io faccio il fork di un di un di un repository oppure clone cioè quindi non immaginate le primitive interazioni social come solamente share oppure post ma anche delle azioni fatte su repository questo è uno dei grossi vantaggi cioè la flessibilità di questo framework estremamente e naturalmente voi avete un elenco di oggetti predeterminati qual è il vantaggio di questa impostazione è per esempio che voi potete importare l'attivity stream da un contenitore social a un altro contenitore social per cui potreste implementare all'interno di Stack Overflow l'elenco degli activity stream necessari per fixare un bug che qualcuno ha segnalato all'interno di Stack Overflow una cosa che per esempio fa Salesforce e ci sono anche Salesforce da un activity stream e voi vi potete sottoscrivere a questo activity stream e importarlo per esempio in un motore social tipo Jive questa modalità di interazione presuppone che voi non solo siate in grado di descrivere le interazioni social ma anche gli oggetti che vengono scambiati e come all'interno della pagina vengono rappresentati vengono descritti cioè voi a un certo punto avete un paginone con il codice HTML dove isolate l'oggetto che rappresenta la merce di scambio nelle interazioni sociale lo fate con l'open graph l'open graph vi consente di aggiungere contenuti di tipo semantico cioè quindi dare un'identificazione al puro e semplice HTML questa è sempre stata un'ambizione molto forte delle di chi scriveva codice per il web cioè di aggiungere contenuti semantici al web l'open graph fa proprio questo voi potete per esempio indicare che quelle che state scrivendo in una tabella non sono degli oggetti qualunque ma sono delle coordinate geolocalizzate oppure che quella che che è all'interno la v card è un particolare esempio di open graph in cui quegli elementi che voi state convogliando sono le coordinate della business card di un utente naturalmente tramite open graph voi potete realizzare delle azioni cioè fare quello che indicava prima Nino cioè tramite open graph voi potete dire mandami i teatri dammi le indicazioni sui teatri che sono aperti in una determinata regione e naturalmente questo lo potete sia produrre che consumare cioè voi potete produrre queste informazioni all'interno di una pagina oppure consumare le informazioni che sono disponibili in tante altre pagine con quello che viene chiamato il social midware cioè al momento noi abbiamo sempre immaginato il midware come qualcosa che ci aiuta a scrivere le applicazioni il social midware è uno step avanti è quello che ci serve per scrivere delle API cioè per rastrarci e per poter aggregare queste informazioni provenienti da fonti disparate qualcuno ha diciamo familiarità col termine midware mai sentito? mai sentito? cioè il midware è il midware diciamo il social midware è quello che ci consente di integrare fonti diverse di stream quindi lo stream che abbiamo visto precedentemente può essere convogliato e radunato con uno standard nuovo per esempio chi voi ha sentito pub sub hub hub è un framework di google che consente come leggete dal nome è un publisher subscribe ed è vi da le specifiche per definire un hub all'interno di un sistema di publish and subscribe social cioè fa sostanzialmente questo voi quando voi siete un sottoscrittore di un activity di uno stream quindi c'è qualcuno che vi comincia a mandare informazioni a go go a rotta di collo e a un certo punto voi siete cominciate a ricevere queste informazioni e magari a voler commentare su queste informazioni invece di sottoscrivervi direttamente al publisher avete un intermediario un hub che è un accentratore dove vengono convogliati tutti i sistemi di mediazione e tutte le gli argomenti topic che vengono pubblicati da n publisher il naturalmente il hub vi fa il push di queste informazioni e ve le ripropone come feed come se fossero prodotti direttamente dal publisher quindi voi sostanzialmente eseguite le stesse azioni come se stesse dialogando direttamente col publisher però mediate da un uno strato da un canale che è il lab del vostro sistema che cosa ci vedete quindi questo è un protocollo estremamente vantaggioso estremamente utile è un publish and subscribe però ha un particolare fault un particolare elemento di difficoltà ed è quello che poi viene usato in tanti elementi social ed è richiede un enorme mole di elaborazione e ha un particolare non è completo cioè non vi da tutti i casi d'uso qualcuno ha può immaginare perché cosa in che cosa è carente cioè non completo il pub sub è carente nel fatto che voi potreste essere dei subscriber che vogliono aggiungere qualcosa al tema che viene riprodotto dal publish cioè i commenti social allo stream di azioni che vi vengono convogliate quindi potreste vorre aggiungere nuove informazioni commenti tag e questo ritornerebbe al publish e rinnescherebbe un ciclo moltiplicato dal lab questo quindi avete bisogno di un intermediario però intelligente che sia anche in grado di convogliare e di indirizzare il la sottoscrizione il protocollo che fa questo si chiama Salmon penso che forse fino a pub qualcuno però Salmon Salmon è proprio inteso in questo senso cioè di sottoscrittori che risalgono la corrente cioè voi siete qui volete arrivare al publisher e aggiungere delle cose avete un hub intelligente che media queste sottoscrizioni al topic che voi fate e quello che accodate ai feed che vi manda il publisher quindi sostanzialmente ha un'intelligenza e riconcilia queste informazioni in maniera centralizzata in modo tale da non generare spam in tutta la catena in tutto il in tutto il middleware fa questo identificando il subscriber quindi ha un ulteriore elemento computazionale forte e lo diciamo identifica quelli che sono le le differenze i diff tra quello che era il tema che era stato pubblicato e quello che ha aggiunto il subscriber questo naturalmente tutta questa tutto questo componenti si compongono in un social stack ora questo il social stack è quello che molte aziende richiedono cioè richiedono per poter farsi che le persone collaborino di avere la possibilità di esporre in maniera diversa le attività le vostre attività le potesse avere esposte come un elenco di mail oppure come un feed di una serie di task che vi vengono assegnati oppure come una serie di pull request su un repository su un repository github tutte queste cose in realtà sono esattamente la stessa cosa sono la stessa cosa che può essere letta diciamo in maniera diversa con tutto il social stack per cui in questa slide voi vedete quelli che sono i protocolli supportati quelli che abbiamo elencato e però come si compongono per le diverse attività che vengono elaborate cioè per cui tutti gli elementi che poi costituiscono piano piano tutta la pila di collaborazione si compongono in un social stack in cui i protocolli di sub hub hub salm auth e poi naturalmente rest sui quali si fonda questo questo stack diventano poi gli strumenti con i quali noi collaboriamo cioè quindi si compongono all'interno delle mail si compongono all'interno delle azioni che facciamo su repository si compongono all'interno dei documenti che ci scambiamo e che diventano diciamo quelli che poi rappresentano l'oggetto del nostro lavoro e di quello che poi vengono contribuito all'azienda e a quelli che fanno uso di questi strumenti prima di vorremmo procedere poi con una sezione di domande e risposte quindi se qualcuno si vuole registrare come mi sono domande mi sono domande so che è stato difficile questa parte qua l'ho detto ma io ve l'avevo detto che era difficile domande su questa parte qua chi di voi è si è già cimentato nello sviluppo di app che fanno comunicazione dato sempre e che ha avuto un buon download pure che ha avuto un meglio download ma che razza di micro che ha avuto un meglio download vai quel ragazzo lì su quello lì qualcuno gli porta un microfono no no eh quello lì su quello lì ecco proviamo a vedere intanto cerchiamo anche di snocciolare il concetto vai abbiamo 5 minuti di domande e risposte ci siamo ricavati alla fine perché sapevamo che l'argomento era un po' più complesso del normale che noi normalmente trattiamo però insomma ne andava parlato perché è un aspetto molto importante per chi fa app il tuo modello di comunicazione sono io che ti faccio una domanda a te però poi dopo hai la chance di farci qualsiasi domanda il tuo modello di comunicazione con il lato server non vogliamo sapere il lato app che cosa fa però è un'app che comunica con il server di back-end? sì sì ok la modalità con cui ci comunimi è sincrona richiesta risposta ok hai utilizzato un protocollo http immagino http json json rest quindi un metodo action perfetto le modalità con cui tu interagisci no? remotamente sono sono probabilmente ti faccio una domanda ti da una risposta sì 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 quello che Davide più o meno diciamo allineava al discorso principale era che l'oggetto che viene richiesto quindi l'oggetto su cui io vado a fare una richiesta di ricezione probabilmente è lo stesso oggetto che è ambito di collaboration per altri no? quindi ti faccio un esempio se la tua applicazione è monoutente immagino sia così no? cioè immagina io provo a fare un esempio così però non mi tirate la lattuga perché non immaginate la richiesta delle previsioni meteo ok? facciamo la social allora io faccio una richiesta di previsioni meteo l'oggetto che cos'è? la previsione meteo quindi faccio una richiesta al server la previsione meteo come nel tuo caso rest, sincrono, previsione meteo quell'oggetto previsione meteo può essere calato in un contesto e il contesto è un contesto in cui io dico questo oggetto a livello social supporta dei verbi e i verbi sono commentare condividere oppure anche verbi che sono realizzati ex nuovi in base alle esigenze due quindi l'idea qual è? far diventare quell'applicazione multiutente basta semplicemente abilitare questo tipo di paradigma no? cioè basta semplicemente che server side tu dica l'oggetto che io palleggio ha anche uno strato social perché prevede che quell'oggetto indipendentemente dalla logica che ha supporta dei verbi all'interno di un contesto così che se un'altra persona richiede lo stesso tipo di oggetto e tu abiliti quel verbo la risultanza di quel verbo immagina l'esempio più banale il commento immagina che commentare sia il verbo su quell'oggetto e tu quindi supporti anche la chiamata a quel verbo tramite la tua API tu hai contemporaneamente creato social qualcosa su un oggetto specifico però nel caso semplice ci viene banale pensare ai commenti perché la maggior parte dei social network utilizzano commenti però come faceva notare Davide è il contesto che determina che cosa è social per esempio in un contesto come GitHub il contesto potrebbe essere fork potrebbe essere clone però nel contesto della tua app i verbi che tu potresti utilizzare per rendere collaborativo l'oggetto che tu palleggi sono tutt'altro e questo è supportato a livello di framework secondo te la domanda arriva la domanda secondo te questo tipo di framework porta un vantaggio alla tua app? penso di sì ah meno male se dicevi no se dicevi no però non mi è chiara la comunicazione di come questo oggetto social te la spiego in seconda sede ce la faccio spiegata a lui anzi c'è qualcun altro che vuole fare domande? dai bravo io c'ho una domanda più di filosofia quindi diciamo vai allora ci risponde lui no no in realtà su una cosa che avevi detto tu dicendo whatsapp a un certo punto no ha fatto qualcosa in più di messenger perché te l'ha messa in tasca e questo gli ha portato il vantaggio competitivo tutto chiaro però io mi sono sempre domandato mi ha notato che ci sono tante altre applicazioni che poi su mobile per esempio gtalk te ne dico una facile facile che l'ha fatto mi sembra mesi prima di whatsapp questo discorso identico spiccicato era fruibile nello stesso modo in più è anche gratis però ci ha avuto qualcosa in meno perché poi a un certo punto i miei amici mi spingevano e io dicevo ma scusate c'è sta gtalk sta funzionando tanto bene tutti voi avete un account gmail perché non utilizzarlo a un certo punto whatsapp ha fatto qualcosa in più che io però non ho capito secondo te bella domanda questa non penso di poterti dare la risposta definitiva però penso di aver capito quali sono i trend che muovono la scelta di un'applicazione o l'utilizzo di un'applicazione e penso che ci sia anche un ranking su questo cioè che ci sia anche un livello di importanza per il quale tu quando scegli di fare un'applicazione dovresti dare un giusto peso alla tecnologia un giusto peso al design e un giusto peso alla funzionalità l'esempio di whatsapp è molto simile all'esempio di razzle dove razzle è stata un'applicazione che ha spopolato cioè un gioco che ha spopolato un gioco social poi tra l'altro ecco il contesto sociale su cui ecco il concetto di razzle era probabilmente quello di semplificare l'accesso a quell'informazione e all'utilizzo quindi il driver principale era la user experience che quell'oggetto forniva la user experience è anche quello che poi rappresenta più o meno la barriera fra chi è utilizzatore e chi fornisce il servizio quindi nel caso di whatsapp così come nel caso di razzle una buona idea legata a una semplicità di utilizzo ne fanno la chiave di successo questo non vuol dire che il gtalk non fosse altrettanto semplice da utilizzare ma che le modalità anche a livello di pushing di informazioni quindi anche a livello di marketing marketing che può essere anche minimale cioè come presenti un'app che tipo di video dai dell'app che tipo di sponsorizzazione ti ho registrato ti ho messo in public subscribe probabilmente questo è un peso che per questa tipologia di applicazioni fa la differenza però non è una chiave di lettura univoca per tutte le app perché per esempio io ho realizzato un'app ne ho realizzate diverse una delle app che ho realizzato non mi aspettavo avrebbe avuto così tanto successo in realtà ha avuto molto successo ed aveva un alto rating di download a pagamento quindi non è possibile cioè eppure effettivamente in quel caso c'è stata una sorta di alchimia avevo studiato avevo fatto i compiti a casa per capire in quell'area che tipo di pesi potevo dare alle varie realtà user experience funzionalità tecnologia però non pensavo avesse avuto una così un'esplosione così importante io però ah scusa vai vai forse l'unica cosa differenza che ho notato è che diciamo whatsapp si appoggia sui numeri telefonici e quindi è come se in realtà io pensavo che il bacino di potenza del gmail fosse praticamente invincibile però effettivamente quello del numero telefonico è ancora libero è superiore quindi tu dici la comunità e quindi a un certo punto uno anche se non aveva un account gmail comunque poteva accedere facilmente bastava registrarsi con il numero di telefono ma questo non lo so sai perché? perché nel caso di whatsapp c'era un grosso limite tant'è che la gran parte delle mie amicizie che non erano informatiche mi chiedevano se potevano craccare whatsapp sui pad perché se non avevi un numero assegnato non potevi usare whatsapp risposta si ovviamente si poteva craccare però quindi è molto probabile che quello rappresentava un'enorme barrieta per loro avrebbero potuto liberalizzarla questa cosa però non l'hanno fatto quindi secondo me il concetto del bacino di utenza è un concetto importante però non era secondo me il driver principale perché se loro avessero sfruttato quello come driver principale avrebbero fatto l'unlock avrebbero dato l'opportunità anche a chi aveva device che non avevano un seriale assegnato di andarci vai scusa perché poi in realtà era quello che diceva anche lui secondo me non avrebbe aumentato la possibilità perché la forza di whatsapp stava nel fatto che tu la installavi ed era pronta non ti dovevi registrare non dovevi mettere l'email lo user gmail quindi la password più semplicità nel creare l'account esatto per metterla su un pad qualche processo di registrazione lo dovevi fare per forza non potendo sfruttare l'email aspetta però se non sbaglio se non sbaglio è tanto che se non sbaglio whatsapp ti mandava una one time password che era una password generata randomicamente una volta che dovevi inserire almeno per una volta quindi c'era un'operazione di registrazione ok non la ricordavo neanche io fatta anni fa no scusa eh ho dovuto dare fondo al mio ricordo però l'ho tirata fuori ma era una password che treva via via sms immagino era una password si è comunque uno strumento molto più immediato e semplice per chi c'ha un telefono comunque il concetto è la semplicità e quindi era uno dei driver la semplicità probabilmente la semplicità applicata non solo all'utilizzo dell'applicazione ma anche probabilmente alla registrazione all'entrata in quella community io se c'avete altre domande domande sulle DI altre domande di qua eccola c'è lui lui c'è una domanda qua aspetta se no non sentono gli altri secondo me non ho mai ancora lavorato in ambito mobile cioè mobile si ma non in ambito social non si però social attenti perché il concetto che noi abbiamo voluto far passare è che social scusate mi permetto di dire social non è necessariamente commentare postare taggare social è qualsiasi verbo tu voglia applicare su un oggetto che condividi lui fa le previsioni medio non le fai le previsioni medio però lo so lui fa le previsioni medio immaginati dei verbi che tu puoi affiancare a quell'oggetto che palleggi che lo rendono social rispetto a una community che può essere un'azienda o può essere una community cioè se tu fai un'applicazione per un'azienda e vuoi che quell'oggetto in quell'azienda sia in qualche modo legato a un contesto che ne so un piano un'area di business un tipo di prodotto particolare e tu su quello gli applichi dei verbi indipendentemente da quello che l'oggetto fa quindi l'oggetto fa operazioni crude cioè legge scrive cancellarla ok quindi tipiche operazioni crude su quelle operazioni crude tu gli vuoi applicare una immagina di ecco immagina di versioning il versioning delle persone il verbo è versiona e l'attore è la persona che lo versiona quindi quando tu lo modifichi gli applichi un verbo e aggiungi anche l'attore che l'ha versionato e su questo in realtà tu lo puoi fare in un determinato contesto quindi puoi creare un versioning in un determinato contesto per quel tipo di oggetto quindi i verbi che puoi dire fuori vabbè mi sono infervorato vai la domanda per quanto riguarda tutto il discorso che hai affrontato all'inizio riguardo a la possibilità a parte delle aziende di esporre attraverso l'API quello che è la loro banca dati ti viene a pensare che non so a tutti i dati che puoi avere facebook eccetera forse almeno per quello che ho visto fino adesso almeno in Italia non c'è non è ancora passata la cultura di mettere a fattore comune quella che è l'informazione cioè diciamo il passaggio tra quello che è il web 2.0 3.0 no c'è mi permetto di interromperti perché c'è in realtà non ci sono i canali giusti per pubblicizzarla ma c'è cioè in pratica c'è un filone che si chiama open data che penso che per lo meno tutti quanti siamo allineati che è un filone che è praticamente fallito da un punto di vista primordiale perché? perché non erano state specificate le qualità che l'open data dovesse avere cioè l'open data doveva avere come qualità principale il fatto di essere libera di utilizzo quindi chiunque di voi prende quel data set lo utilizza ci fa i soldi non deve rendere conto niente a nessuno quindi immagina di l'open data del comune l'open data della regione l'open data della provincia l'open data dello stato l'open data dell'ente specifico e ce ne sono tanti e ce ne sono di privati e di pubblici se tu vai su un sito che si chiama programmable.com .net non mi ricordo quello è il registro internazionale delle API ci sono più di 15.000 API pubblicate tra cui anche quelle italiane ce ne sono una marea e ce ne sono tanti che non pubblicano API però c'è un problema il concetto italiano era legato a faccio il minimo la legge di Pareto faccio il minimo per ottenere il massimo che succede? io espongo il dbf espongo il file di oracle cioè prendo il file da 4 giga e lo espongo ma che razza di dataset è? ma che razza di open data è? cioè tu ce lo vedi un web developer o un app developer che prende il dataset se lo mette su un cloud e lo espone come API e se lo chiama dopodiché ogni sei mesi deve andare là contro là se è uscito il nuovo dbf se lo importano non c'è utilità cioè un app developer fa l'app del weather che è meglio e gli do ragione giusto? allora la legislazione Obama a maggio dell'anno scorso ha fatto quello che si chiama open data 2.0 cioè ha dettato le regole del nuovo open data tant'è che c'è un progetto su github proprio dell'amministrazione americana di Obama su cui ci sono anche diversi strumenti di compilazione dell'API di produzione della documentazione dell'API veramente interessante che ha specificato altre due qualità cioè tra le qualità che aveva già messo la gratuitità aveva messo altre due quindi tu vai sul progetto le vedi sono state inserite che sono timely e maneggiabili cioè deve essere in tempo reale e deve essere gestito cioè mi devi esporre un API e non un dataset e soprattutto quell'API deve essere veridiera rispetto al dato che tu hai e quindi gran parte delle API che oggi tu puoi trovare in circolazione almeno negli Stati Uniti se tu vai se ti capita semmai ti capiterà di andare su open data.gov USA troverai in prima pagina un banner con scritto request in API cioè chiedono agli app developer quali tipi di API vogliono che l'amministrazione americana metta a disposizione perché perché l'idea migliore non ce l'ha chi fa l'app ma chi la commissiona la commissiona a una pletora di app developer come voi cioè all'intelligenza collettiva probabilmente verrà realizzata la migliore app con i dataset che io ho quindi si è vero per il momento siamo in un periodo di transizione ma si è fatto già molto e molto si sta facendo tant'è che il comune di Roma o per esempio se volete sbizzarrirvi c'è la so questa è un'informazione che so di sicuro l'agenzia della mobilità di Roma ha esposto via API l'algoritmo del trova percorso quindi potreste legare quelle API a un'innumerevole quantità di altre API che trovate nel mondo commerciale per fornire il percorso più breve per raggiungere un punto vendita un negozio un servizio di assistenza capito come potete fare non serve a nessuno l'app che ti dice come faccio andare da qua alla serve probabilmente l'app che sfrutta un API che è messa a disposizione in maniera gratuita perché è un'open data con un API invece magari a pagamento di un'entità di un ente sapete quanta proliferazione di questo ci può essere e soprattutto se ci legate un contesto social vaze che faceva esattamente questo ci legava un contesto social su un oggetto che era un percorso un tragitto capito? ben ferbero se avete altre domande? no anche perché siete domandati vero? eh certo io vi ringrazio grazie 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 grazie